Un atto gravissimo che compromette il futuro non solo di eventi ormai radicati nel territorio, ma anche di un modello di aggregazione e di valorizzazione delle tradizioni e delle comunità locali. Non usa mezzi termini il Comitato delle Sagre del Comune di Arezzo nei confronti del documento che sta preparando la maggioranza che revisionerà il regolamento sullo svolgimento delle sagre che introduce diversi paletti, limitazioni a cinque giorni consecutivi, eventi caratterizzati dalla tipicità di un prodotto a chilometro zero, tracciabilità stessa dei prodotti. Secondo il Comitato si tratta di paletti che vengono collocati attorno a questa esperienza palesemente finalizzati a farla terminare. Ci sarà la limitazione dei menu, rischio di chiusura di attività sportive e di strutture pagate con fondi ricavate dall'indotto delle sagre, diversità di trattamento tra le nostre attività e quelle esercitate dai quartieri della giostra del Saracino. Facciamo appello al Consiglio Comunale e al Sindaco affinché venga attentamente valutata la gravità delle decisioni che si apprestano ad assumere che colpiranno non una sagra ma migliaia di persone che nel segno della solidarietà e dell'amicizia mettono ogni anno il loro tempo e le loro energie a disposizione di eventi che si confermano sempre più di qualità. E attaccare quello che si preannuncia come essere il nuovo regolamento arriva a Matteo Bracciali del Partito Democratico. La destra di governo dice sta preparando il funerale delle nostre frazioni, limitare l'oggetto delle manifestazioni alla sola promozione di un prodotto tipico del territorio, dimezzare i giorni di apertura degli stand con evidenti ripercussioni economiche per gli organizzatori e arrogarsi il diritto di scegliere discrezionalmente quali sono le sagri buone e quelle cattive da chiudere significa chiudere una modalità di aggregazione e autofinanziamento delle nostre periferie che attraverso queste manifestazioni finanziano servizi, manutenzione al territorio e portano avanti le attività sociali di paesi interi. Ma dalle categorie economiche arriva un plauso nei confronti del governo. Catiuscia Fei, vice direttrice di Confcommercio, replica così. L'intervento del consigliere Bracciali dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, come la politica utilizzi sagre o feste varie come forme di organizzazione del consenso. Così, mentre le sagre vere valorizzano il territorio e le sue tipicità, creando momenti di socialità insostituibili, quelle finte servono solo a fare cassa per finanziare questo o quel gruppo di interesse con il benestare della politica. Plauso al comune anche da Confesercenti, che storicamente per prima aveva sollevato la questione. Ci permettiamo, rileva il direttore di Confesercenti Checaglini, di replicare a chi difende le sagre. Cinque giorni consecutivi sono pochi, ma quanto dovrebbero durare per esprimere la tradizione e promuovere un territorio e non trasformarsi in attività durante le quali fare cassa in concorrenza sleale con ristoratori ai danni di imprenditori, famiglie e dipendenti?